Io quello che faccio per loro per renderli felici o per il loro benessere, ogni momento che posso, anche il fatto di ascoltare un po' di musica assieme che loro rende felici, o raccontare una storia, anche il fatto di sedersi vicino a toccarli solo la mano, il braccio, farli una carezza, ascoltare un po' di musica assieme, anche cantare assieme, anche ballare assieme. Una canzone preferita? Sì, le rose rosse per te. Rose rosse per te, tipo così. Ma la nostra ospite quando sente questa canzone a lei la rende molto felice e la vedi proprio, vedi il suo sorriso subito sul viso. Grazie. 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 Grazie.